Di Letta Leotta la nostra conduttrice televisiva e radiofonica è spesso finita al centro dell'attenzione a causa del suo aspetto estetico considerato poco naturale. Andando a spulciare tra le vecchie foto, effettivamente la Leotta era totalmente diversa. Tuttavia, nei primi anni della sua carriera ha sempre smentito qualsiasi rumor sulla chirurgia estetica personale, ma oggi ha ammesso di essersi sottoposta alla chirurgia estetica sebbene non sia entrata nei dettagli e quindi non sappiamo quali parti del corpo ha ritoccato effettivamente. Anche se, guardando le foto del passato e quelle attuali, possiamo notarlo sicuramente. Il suo aspetto è decisamente trasformato e lo ha confermato lei stessa in un'intervista di Verissimo. Belè Rodriguez oggi ha 37 anni e ne compierà 38 a settembre. La showgirl ha affrontato ben due gravidanze, ma il suo aspetto fisico è sempre al top. Vedendo alcune foto del suo passato, notiamo che ha modificato alcune parti del viso, nelle zone degli zigomi, alle labbra e al naso, e anche un ritocco al seno. Tuttavia, gli interventi sono sempre stati molto leggeri e non ha esagerato nello stravolgere il suo corpo, infatti rimane sempre molto bella e naturale. L'ex moglie di Francesco Totti ha un aspetto molto diverso rispetto al passato. Ilari Blasi, infatti, ha trasformato il suo aspetto nel corso del tempo, ricorrendo alla chirurgia estetica. Ai tempi di Miss Italia e Passaparola aveva i capelli castani con delle mesh bionde davanti sui ciuffi e le sue guance avevano una forma un po' diversa rispetto a come appaiono oggi. Secondo le voci di gossip, la donna si sarebbe sottoposta nel tempo ad alcuni ritocchini per rinsanare la sua bellezza. Si parla del naso e del seno e di un rigonfiamento alle labbra, anche se a nostro parere le aveva già belle e carnose. Ilari Blasi, però, non ha mai ammesso di aver fatto questi ritocchini. Ha sempre negato tutto, infatti, in diverse interviste ha dichiarato di essere del tutto naturale e di essere semplicemente cambiata rispetto al passato. Cristiano Ronaldo è oggi il calciatore più popolare al mondo, oltre ad essere diventato un sex symbol tra le donne di tutto il mondo. Pur avendo costruito un corpo atletico con il suo duro lavoro, Ronaldo si è sottoposto a vari trattamenti estetici per migliorare il suo aspetto fisico. Infatti, guardando le sue foto del passato, possiamo notarlo. Diciamoci la verità, Cristiano Ronaldo non aveva un bel sorriso al suo esordio. Se confrontiamo le foto di CR7 prima e dopo, non abbiamo dubbi. L'attaccante portoghese si è rifatto i denti, ma non solo. Si dice che Ronaldo si sia anche sottoposto a un trattamento di odontoiatria estetica per ripristinare il suo sorriso da celebrità. Ed essendo promotore di diversi marchi di cosmetici e di attrezzature sportive, Ronaldo è costretto a prendersi cura del suo aspetto fisico e del suo viso. Cristiano Ronaldo sembra non essere invecchiato di un giorno. Il suo stile di vita è impeccabile, è vero, ed ha seguito sempre i rigidi allenamenti e diete drastiche per mantenere il suo corpo. Tuttavia, non possiamo spiegarci la sua statuarietà basandoci solo su questo. Infatti, secondo alcuni rumors, Ronaldo si sottopone regolarmente ad iniezioni di botox per riempire le rughe sulla fronte. Inoltre, si sarebbe sottoposto a iniezioni di acido ialuronico per ridurre le rughe intorno al naso e alla bocca. Stefano De Martino, come qualsiasi altro personaggio dello spettacolo, ha ceduto negli anni a qualche ritocchino estetico. Il ballerino oggi è diventato un conduttore talentuoso, ma la sua carriera è iniziata come ballerino appunto all'interno della scuola di amici. E successivamente è entrato anche a far parte dei professionisti del programma, periodo in cui ha conosciuto la sua attuale moglie, Belen Rodriguez. Ma ve lo ricordate come era a quei tempi? Sì, anche Stefano De Martino ha ceduto a qualche piccolo ritocchino estetico. Pare infatti che il conduttore si sia sottoposto a qualche ritorco di chirurgia estetica e mettendo le sue foto a confronto di prima e dopo il successo, possiamo notare qualche cambiamento. Stefano De Martino ha sicuramente dato una sistemata ai suoi denti. Confrontando i suoi sorrisi, infatti, sarà sicuramente ricorso a un bravo dentista che ha migliorato la sua situazione. Ma non solo, anche le orecchie dell'ex ballerino sono cambiate e non sono più a sventola come prima. In precedenza, il conduttore era stato paparazzato dal settimanale nuovo con una ben visibile fasciatura intorno alla testa. Inoltre, ha deciso di ritoccare leggermente anche il naso. Dobbiamo dire però che qui c'è stata la complicità anche di un incidente, proprio con Belen Rodriguez, e probabilmente da qui De Martino ha accolto l'occasione per dargli una sistemata. Barbara D'Urso, nota conduttrice televisiva italiana, risulta sempre impeccabile e sui social e nelle sue trasmissioni appare sempre al top. Molti suoi fan e non sostengono che Barbara si sia sottoposta a ritocchi al viso e non solo. Ma cosa si è rifatta? Andiamo a scoprirlo subito. Dobbiamo dire che non ci sono notizie certe in merito al suo ricorso alla chirurgia plastica, ma il sospetto che la conduttrice abbia ceduto a qualche ritocco al viso c'è. Secondo i più pignoli e attenti, infatti, si sarebbe rifatta gli zigomi, che oggi sono molto più pronunciati e che abbia fatto delle iniezioni di botox, in quanto la sua pelle appare sempre molto liscia e ben distesa. Inoltre, possiamo notare anche un piccolo intervento alle labbra, che appaiono più gonfie rispetto a prima. Ma fino ad oggi, Barbara D'Urso non ha mai confermato tutto questo. Oltretutto, si è sempre dichiarata di essere contro la chirurgia estetica e ha spesso preso le distanze da quelle in situazione che riguardano appunto i suoi interventi estetici. Maria De Filippi è considerata da tutti la regina di Canale 5, ma ultimamente abbiamo notato alcuni cambiamenti. Quindi, la domanda sorge spontanea. Anche la nostra presentatrice è ricorsa all'aiuto della chirurgia plastica? Dopo svariati anni passati in tv, non sono passati appunto inosservati alcuni cambiamenti estetici della conduttrice. Maria De Filippi è cambiata molto da quando ha iniziato a lavorare per la televisione. I suoi capelli sono sempre rimasti biondi, ma è cambiato il suo taglio. Il suo fisico è vero, è sempre asciutto e snello grazie anche agli sport che pratica come soprattutto il tennis. Ma poco tempo fa è stata anche la protagonista di una puntata del TG satirico di Striscia alla Notizia, Fatti e Rifatti, dove si diceva che anche lei ha ceduto alla chirurgia estetica, sottoponendosi a piccoli interventi e mettendo a confronto una sua vecchia foto con una più attuale. Da questo confronto sembrerebbe essere venuto fuori che la conduttrice abbia fatto ricorso a delle punturine rivitalizzanti al viso. Come è cambiata invece negli anni Michelle Hunziker? Vediamo com'era prima e com'è diventata oggi. Michelle, durante il corso degli anni, è cambiata, ma nonostante il tempo sia passato, la showgirl ha mantenuto intatta la sua bellezza e giovinezza. Michelle ha sempre smentito tutte le voci sui suoi presunti ritocchini. Infatti, la famosa Svizzera ha sempre negato di essersi sottoposta alla chirurgia plastica, sostenendo di essere tutta naturale. Ovviamente non tutti la pensano così, molti credono che abbia ceduto anche lei come la maggior parte dei VIP. La showgirl oggi ha 46 anni e rimane una delle donne più belle dello spettacolo. E proprio per il suo impeccabile aspetto, sembra inverosibile che non si sia mai sottoposta ad alcun intervento estetico. Tuttavia, un esperto del settore, e stiamo parlando del chirurgo estetico Giacomo Urtis, ha riferito al settimanale nuovo di avere dei dubbi sul seno della Unziger, che sembra aumentato in maniera non naturale. Insomma, rimane il mistero del suo ritocchino al seno, ma per il resto dobbiamo ammettere che l'aspetto di Michelle Unziger sembra mantenere una naturalezza a dir poco invidiabile. Il video è terminato, fateci sapere cosa ne pensate della chirurgia estetica e diteci se questi VIP di cui abbiamo parlato li preferite al naturale o come li vedete attualmente in televisione. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per i prossimi video. Grazie a tutti!